Solo otto anni fa, in questo convento, si spegneva serenamente un confratello di Padre Pio, fra Modestino Fucci. Non so se voi lo ricordate, sembra ieri che la portineria del convento vedeva questo, potremmo dire, spettacolo, quello di tanta gente in attesa, tanti rimanevano tutta la notte, semplicemente per incontrare qualche attimo, per confidare, non era un sacerdote fra Modestino, e quindi aveva il dono dell'ascolto. E lui, davvero con tanta pazienza, con tanta determinazione, con tanta gentilezza, ogni giorno aveva la carità di ascoltare, di fare sue le sofferenze di tante persone, le confidenze, le preghiere, le suppliche, dando una testimonianza esemplare di vita francescana e anche lui, perché no, l'estraordinario amore per la Madonna. Ecco, allora, in questo giorno, come dicevo, di vigilia, vogliamo contemplare la bellezza dei Santi, la bellezza di tanti, che hanno dato davvero la più bella testimonianza su questa terra e come Maria possono considerarsi davvero la porta d'ingresso, l'anticipo della festa che andremo a vivere domani. Grazie. Grazie.